Dare il via alla premiazione che è un po' il cuore della serata, abbiamo deciso di dedicare anche un momento alla riflessione con il nostro CEO Summit, un titolo abbiamo assegnato a questo momento appunto di confronto che speriamo possa essere di ispirazione. Innovation has no limit, sfide e opportunità di un presente in continua evoluzione. Quindi io invito a salire sul palco i relatori, ovvero Antonio Gigliotti, fondatore e direttore di Fiscal Focus. Un applauso, accoliamo in un applauso. Vincenzo Latorraca, amministratore delegato di Global Assistance. Benvenuto, allora lei si può accomodare tranquillamente qui e poi aspettiamo anche il nostro secondo ospite. Benvenuti ai protagonisti del nostro CEO Summit, noi ci ritroviamo dopo per la premiazione. Grazie Valentina Buzzi che ritroveremo naturalmente per la nostra premiazione, una serata che è fatta di più momenti. Insomma, questo come lo abbiamo definito è il momento della riflessione, però in realtà è anche, anzi, è ancora di più un momento di condivisione, perché attraverso la vostra voce, la vostra esperienza possiamo in qualche modo fare nostra anche delle ricette, le definisco così, in questo contesto che abbiamo definito essere in continua evoluzione. Io credo che l'evoluzione sia continua per chi fa business, però è chiaro che con uno scenario di mercato come quello che stiamo vivendo oggi lo è ancora di più. Insomma, diciamo che le novità non mancano mai, sia in senso positivo che in senso negativo. E quindi partiamo da questo 2023 che si è confermato un anno ricco di vecchie e nuove variabili da gestire. Vorrei chiedere, insomma, che bilancio vorreste fare relativamente al vostro segmento di business, ovviamente raccontandoci un po' quello di cui vi occupate. Antonio Gigliotti, partiamo da lei. Beh, noi, intanto grazie per essere stati anche quest'anno invitati, quindi questo ci fa enormemente piacere. Beh, noi operiamo nel campo fiscale della formazione dell'informazione a livello nazionale e il primo elemento che ha caratterizzato il 2023 è il modo diverso quindi di parlare con i nostri lettori. Cioè noi veniamo da un periodo anticovid dove c'era una forte presenza da parte dei commercialisti soprattutto che sono i nostri interlocutori a fare delle giornate di formazione in aula. Il covid è stato uno spaccato che ha praticamente abituato in modo diverso quindi i professionisti e noi evidentemente che eravamo già abbastanza pronti a questo cambiamento abbiamo dovuto velocemente adeguare tutta quella che la formazione prevalentemente online e quindi dotarla di tutti quegli strumenti digitali, innovazione e quant'altro che oramai sono alla porta di tutti. Poi fra l'altro essendo noi una squadra di professionisti che sono direttamente impegnati sul campo quindi riusciamo a cogliere direttamente quelle che sono le esigenze quindi le necessità e nel campo fiscale le assicuro che di necessità e di esigenze ce ne sono tutti i giorni. Adesso in questi giorni si sta parlando di riforma fiscale, sarebbe la riforma fiscale? Sono 30 anni che l'aspettiamo, chissà forse è il momento giusto. Ecco a parte il fatto che si aspetta da 30 anni c'è anche proprio la necessità di renderla più vicina proprio a tutti gli interlocutori, di parlare un po' lo stesso linguaggio, questo è un po' il messaggio che è passato il fatto che possa essere più confidente per tutti coloro che insomma tutti abbiamo a che fare con il fisco indipendentemente dalla nostra professione, quindi questa credo sia anche una delle prime necessità. Assolutamente sì, guardi la prima cosa che bisogna dire qua e ovunque è che gli italiani non sono evasori perché c'è praticamente questo preconcetto che avere una partita IVA equivale ad essere evasore. Non è assolutamente così. Il popolo italiano, quindi i soggetti che tengono l'intera economia, medie e grandi aziende ma anche piccole e medie sono quindi della gente impegnata a lavorare, vorrebbe lavorare tranquillamente e vorrebbe pensare soltanto a lavorare, non a come andare ad interpretare e si perde tempo, soldi per cercare di capire come pagare le imposte. Non è assolutamente qualcosa di accettabile e se quindi vi è semplificazione, io sono convinto ma non soltanto io, altrimenti sarebbe irrilevante il mio pensiero, che una semplificazione aiuta anche la lotta all'evasione fiscale. Sicuramente, su questo siamo d'accordo tutti, a volte è proprio la burocrazia che ci impedisce anche di poter adempiere al meglio i nostri doveri e quindi questo poi ci fa incorrere magari in errori. Ecco, se si semplificasse tutta quella parte lì sarebbe sicuramente meglio. Vincenzo Laturraca, insomma stessa cosa anche a lei parlando del vostro segmento di riferimento. 2023, che anno è? Il 2023 per una compagnia assicurativa d'anni come noi è un po' essere di fronte a due fattori principali che sono quello del cambiamento climatico e quindi anche dei rischi di eventi catastrofali e l'inflazione che ormai non è più un elemento temporaneo ma siamo già al secondo anno dove viaggiamo con inflazione fra l'8 e il 10%. Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, i rischi catastrofali, l'abbiamo purtroppo visto di recente con quanto è accaduto in Emilia Romagna e colgo anche l'occasione di un momento di riflessione per la popolazione colpita e per tutte le persone che in questo momento stanno combattendo contro questo disagio. È anni che in Italia si parla dell'importanza di assicurare il catastrofale e continuiamo a essere nel settore assicurativo con il 5% ed abitazioni assicurate su un totale di 100%. Io credo che l'unica strada sia una vera collaborazione fra privato e pubblico e basta guardare oltre alpe quello che fa la Francia dove fondamentalmente anche lo Stato partecipa con un ruolo attivo nella riassicurazione affinché anche le compagnie assicurative trovino con la capacità per poi andare insieme ai intermediari assicurativi a fare anche educazione assicurativa sul tema. Perché poi, diciamoci la verità, è anche un tema di educazione assicurativa sul tema. Per quanto riguarda invece le tematiche dell'inflazione, il settore assicurativo le sta affrontando su diversi fronti perché chiaramente un'inflazione all'8% ha un impatto diretto sul costo medio dei sinistri, fra l'altro spesso che può essere anche superiore all'8% e non credo che nel breve termine l'inflazione si spegnerà. Inizialmente si pensava che fosse dovuta soltanto al costo delle materie prime. Oggi il gas ha chiuso la borsa a meno di 30 euro al megawattora che è esattamente il dato che avevamo a settembre del 2021 ma l'inflazione è rimasta ancora all'8%. È un processo molto lungo, chiederà ancora qualche anno. In questo momento dobbiamo andare avanti con non solo degli adeguamenti tarifari come sta facendo il settore assicurativo ma riscoprendo anche l'importanza di fare leva ad esempio sul network di circuiti convenzionati. Questo ti consente non solo di dare un buon servizio ma ridurre anche quello che è il costo medio del sinistro. Assolutamente. Questo tema delle assicurazioni mi ha colpito molto proprio in questo momento di emergenza in Emilia Romagna perché ha acceso proprio i riflettori forse su anche un discorso di mentalità, di cultura che abbiamo in Italia. Siamo rispetto ad altri paesi europei proprio un popolo di non assicurati, adesso lo dico in modo transcian, sicuramente poi ci sono delle specifiche, delle differenziazioni da fare, però rispetto ad altri paesi ci troviamo sicuramente meno coperti e meno protetti quando purtroppo accadono anche eventi come questi. Insomma a questo proposito credo che tutti noi possiamo rivolgere anche, perdonatemi la parentesi, un pensiero alle popolazioni che sono state colpite indipendentemente poi da tutti i ragionamenti che si fanno sul business. Però questa cosa mi ha molto colpita, l'ho letta proprio tra le varie notizie che sono circolate. Per fortuna almeno diventiamo più consapevoli forse quando ci sono notizie di attualità come questa. Torno da Antonio Gigliotti per parlare proprio del digitale. Allora abbiamo parlato di innovazione, abbiamo messo la parola innovazione nel titolo proprio per dire che non ha più limiti questa innovazione, ovviamente bisogna saperla gestire. Indubbiamente ha avuto un impatto rivoluzionario in tutti i settori, in modo diverso, anche quelli se vogliamo più resistenti al cambiamento. Quando bisogna cambiare c'è sempre qualcuno che dice aiuto, forse è meglio che resto nel mio e non osa. Questo però magari ci fa restare indietro. Quindi le chiedo e vi chiedo quali strategie state adottando per restare al passo con l'evoluzione naturale delle cose? Guardi, noi come società che siamo impegnati nell'editoria online, ovviamente carriamo tanto nella formazione, ma prima di fare formazione, quindi cerchiamo di fare noi stessi formazione. Abbiamo quindi iniziato già da un bel po' un percorso di formazione interno per capire proprio quindi qual è il vantaggio che può avere l'operatore, noi nel caso di specie, nel fornire quindi una formazione, un'informazione che sia altamente innovativa e tecnologica. Fra l'altro uno degli elementi che può portare quindi un po' ad un successo, se successo trattasi, è proprio praticamente quello di arrivare prima dell'altro, perché è inutile, è una rincorsa continua. Noi spesso come azienda, quindi veniamo perché siamo molto operativi, molto semplici, siamo quello strumento quindi che tanti operatori hanno sulla scrivania in questa giungla di carattere fiscale. Allora avere uno strumento semplice, facile, facilmente quindi utilizzabile e quindi sempre pronto all'innovazione ha portato quindi a diffondere questo messaggio e abbiamo visto che i nostri lettori l'hanno fortemente quindi è positivamente recepito. Quindi siamo sempre alla continua ricerca di questo nuovo, anche perché cosa accade. Come lei diceva prima, se tutti facciamo sempre la stessa cosa e le assicuro che quando proponi anche all'interno un qualcosa di nuovo e dice ma noi abbiamo sempre fatto così, è la risposta naturale che ti viene data. Perché effettivamente l'innovazione, il cambiamento porta quindi delle difficoltà, perché sei abituato sempre a fare le stesse cose. Già quando cambi un qualcosa trovi l'operatore, ma anche nel cambiare un semplice programma di contabilità all'interno di uno studio porta difficoltà. Perché l'operatore è abituato a fare sempre la stessa cosa, gli dice guarda non devi fare più così, facciamo così, nell'immediato trovi resistenza. Però poi pian piano quindi riesce a fargli capire che magari quel tempo che all'inizio perdono poi lo guadagnano successivamente. E beh qui c'è il ruolo della formazione che le ha detto subito che subentra sicuramente. Peraltro insomma l'innovazione non è che è più la caratteristica distintiva dei big, ma tutti devono essere, cioè a modo loro, poi anche a seconda del settore di riferimento, però insomma non è che possiamo sempre fare distinzione tra big e meno big. Noi dobbiamo pensare alle aziende che contribuiscono alla nostra economia interna. Vincenzo Latorra, sì 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 prego certo assolutamente, poi passiamo alla parola. Per dire proprio che interessa a tutti, le faccio un esempio di quello che conosco di più e parlo proprio dei professionisti, cioè il professionista quello tradizionale, il ragioniere c'era una volta, no? Abituato a tenere la contabilità e quindi era visto come un soggetto importante perché teneva la contabilità. Beh quel tipo di attività, quel tipo di professione che quindi ha portato un po' tanto benessere, quindi questi professionisti ormai è praticamente scomparso perché il tenere la semplice contabilità è ormai un qualcosa che è fatto da tutti, non richiede più determinate qualifiche, associazioni, le più disparate fanno la contabilità. Anche i professionisti stanno cercando di fare più consulenza e lasciare un po' quello che molto probabilmente hanno fatto per decenni e che hanno fatto un po' un grado di benessere. Diciamo che poi appunto l'innovazione è diventata un po' la parola chiave di tutto, bisogna vedere come poi si riesce a declinare, no? E lei ce l'ha raccontato sicuramente. Vincenzo Latorra, a lei? Sempre su questo punto. Sì, ascoltavo con interesse quello che diceva il dottore e mi ha colpito come in settori anche in parte diversi poi il tema chiave nell'innovazione digitale sia lo stesso, cioè la semplificazione dell'esperienza dell'utente fondamentalmente. Noi stiamo investendo molto su far evolvere la nostra piattaforma informatica anche con l'acquisto di componenti nuove, sono progetti che coinvolgono tutta l'azienda, sono progetti strategici e crediamo che sia un requisito essenziale avere una piattaforma che è omnicanale e multicanale, un po' come abbiamo detto nella fase in precedenza, ma soprattutto non tanto una piattaforma che sia figital, termine che si dice un po' in tutti i convegni. Io ne voglio più usare uno che è degli anni 90 ma secondo me molto attuale, che sia customer based, che abbia la customer centricity, perché è un tema che è nato negli anni 90 ma ancora secondo me non è stato adottato del tutto. Quindi riavere al centro una piattaforma che semplifica l'operato dell'intermediario assicurativo o del cliente, rendendo semplice ciò che è complesso, perché l'emissione di una polizia assicurativa è complessa, perché ha un framework normativo e anche tecnico che richiede un processo di semplificazione, è l'elemento centrale per far recuperare produttività alla compagnia assicurativa e all'intermediario. La tecnologia poi può essere chiaramente stesa anche al mondo dell'assistenza, questo è un altro ambito che noi stiamo facendo, dall'assistenza auto per esempio con l'introduzione di soluzioni che semplificano la prestazione nel momento del bisogno. Questi sono interventi nel breve, poi se si pensa ai interventi futuri si aprirebbe eventualmente un altro dibattito. Ma poi ci arriviamo, non ci preoccupate perché non possiamo non parlare di futuro. Allora lo tengo per la domanda. Esatto, esatto. Anche perché appunto parliamo di innovazione e parliamo sicuramente già del presente, perché quello che sta cambiando lo stiamo vedendo già oggi, poi comunque sarebbe impossibile inserire la parola innovazione in un contesto cronologico, cioè come si fa a dire quando arriverà l'innovazione ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. Però a partire dalle premesse, anche per arrivare alle conclusioni, io legherei un po' queste nuove sfide di cui ci avete parlato, però ovviamente tenendo conto dello scenario sempre un po' incerto che stiamo vivendo, siamo partiti così con questo confronto. Come vi approcciate al futuro? Ecco, vede che vado proprio con la domanda diretta, è inutile girarci intorno. Anche magari raccontandoci quali possono essere le criticità, perché no, perché ci sono sempre, non è che è tutto rosa e fiori, però l'approccio indubbiamente deve essere poi sempre positivo, penso che sia emerso durante questa prima parte del dibattito. Prego, Antonio Gigliotti. Io mi aggancio a dove ho lasciato l'intervento precedente. Qual è il nostro futuro? A cosa noi stiamo guardando? Partendo un po' da quei due concetti fondamentali che sono l'innovazione, nella digitalizzazione, noi là stiamo investendo tanto, perché siamo fortemente convinti come professionisti, perché io sono un dottore commercialista, quindi ho vissuto per più di vent'anni facendo corsi di formazione in tutta Italia, quindi ho vissuto tutti i giorni a contatto con la libera professione del commercialista e quindi il futuro sarà certamente fare più rete, quindi avere un po' magari dei network che ti consentono un po' di avere quindi su delle piattaforme tutta una serie di servizi, perché guardi, il commercialista per esempio, tutti i commercialisti hanno tutti gli stessi bisogni, quindi il programma di contabilità, l'aggiornamento quotidiano eccetera, quindi avere una piattaforma, e su questo stiamo lavorando, che ti consente di avere tutta una serie di servizi ai professionisti, ma eventualmente offrirli anche alle aziende, perché se poi ci pensi anche, anche le aziende hanno bisogno tutte delle stesse cose, quindi finanza agevolata, finanziamenti, quindi le varie possibilità offerte dai vari bandi e quindi soltanto un progetto di digitalizzazione a lungo andare, ma sul quale noi stiamo già lavorando, può garantire un po' tutta una serie di esigenze e quindi offrire tutta una serie di servizi. Assolutamente, e quindi insomma il futuro come lo vedete, in una parola, se le viene in mente magari una parola precisa? Io sono maledettamente ottimista per natura, quindi lo vedo assolutamente in modo positivo, e quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, nonostante a volte ci sarebbe da guardarlo vuoto, però lo guardo sempre quindi mezzo pieno e sono convinto. Diciamo che magari a volte lo è mezzo vuoto, però siamo noi a doverlo riempire e a vederlo quindi di conseguenza mezzo pieno, questo è sicuramente un ottimo messaggio. Vincenzo Laturraca, stessa cosa, con le premesse che abbiamo fatto, dove vi porta il futuro, e poi anche lei se ci vuole dare una parola, così mi è venuto in mente mentre si parlava, che potrebbe caratterizzare il vostro futuro? Volentieri, ma il futuro dobbiamo sempre ricordarci una cosa, non siamo soli al mondo, quindi quando definiamo la strategia di un'azienda, nel caso la nostra, quando definiamo un piano strategico non possiamo pensare solo al nostro business o guardare giusto a quello che fa il nostro competitor o l'intermediario principale, dobbiamo guardare a cosa accade nel mondo. Io credo questo sia uno dei due elementi più importanti nel definire la strategia aziendale e quindi anche la capacità di adattarla in base a come si stanno evolvendo le variabili all'interno del mondo e del settore economico. Il secondo fattore è quello di la necessità di essere veloci nell'esecuzione e abili nell'implementazione, perché poi non basta avere un'ottima strategia ma bisogna avere la capacità di implementarla in tempi rapidi. Ultimo punto è quello dell'innovazione, ne abbiamo parlato lungo prima, io credo che l'innovazione sia proprio la necessità di andare in anticipo rispetto all'evoluzione dei bisogni dei clienti e anche questo legato alla velocità. Se l'innovazione è per i grandi player del mercato un elemento della strategia aziendale, per un'azienda di media dimensione per me è l'essenza stessa della sua strategia aziendale. Collegandomi alla parola, user è il termine speranza fondamentalmente, dove interpreto la speranza non tanto nell'attesa che accadano cose positive, quanto nell'assumersi la responsabilità di farle realizzare e renderle concrete. Ecco, diciamo che è un po' un sinonimo dell'ottimismo, insomma poi è ovvio che la speranza comprende anche quella parte di eventi. Ho dovuto usare un sinonimo perché il dottore mi aveva anticipato. No, certo. È interessante questo concetto dell'importanza non solo di riuscire a intercettare i bisogni dei clienti, ma anticiparli, no? Non sempre è facile, questa sicuramente è una... Posso aggiungere? Sì, certo, prego. Ci siamo parlati prima, però quindi mi aggancio all'ultimo discorso, sono assolutamente d'accordo, perché guardi, essere una grandissima azienda, ovviamente ha degli strumenti e delle risorse finanziarie, che gli consentono quindi un po' di fare tutta una serie di investimenti. Ma essere piccolo, o quindi una media azienda, ti consente invece di attuare alcune strategie con una rapidità che finché loro pensano, i grandi, diciamo i piccoli e le medie aziende l'hanno già realizzata. Quindi la velocità proprio di attuare una serie di, diciamo, tecnologie, di innovazioni, ti porta a volte, e questo lo dico per esperienza, noi abbiamo come competitor uno per tutti il 24 ore, quindi è un colosso rispetto a noi, però le garantisco che in alcune circostanze siamo riusciti ad arrivare prima e anche prima e meglio di loro, ma non perché più bravi, perché mi riaggancio a quel concetto molto più veloce e rapidi nelle decisioni. Assolutamente, assolutamente. Ci sono i pro e i contro, però in questo caso spesso magari il pro è per il piccolo, che poi piccolo per modo di dire, insomma, poi le piccole e medie imprese sono quello che reggono il nostro paese, quindi sono tutto tranne che piccole. E allora facciamo un applauso ai nostri ospiti, relatori, insomma, poi in realtà sono i protagonisti della serata insieme a voi, Antonio Gigliotti, fondatore e direttore di Fiscal Focus, e Vincenzo Latorraca, amministratore delegato di Globus Assistance. Grazie per aver condiviso con noi questi importanti spunti, insomma, che possono servire a tutti, indipendentemente poi dal settore di riferimento. Grazie ancora, buona serata.